Buonasera Giorgio Sanfermini, Giorgio dai una lettura alla partita di Orpolo. Una partita che riservava tante insidie, soprattutto sotto un aspetto mentale, ma è una cosa che in questo momento dobbiamo cercare di combattere e che stiamo facendo oggi, siamo stati dentro spogliatoio a cercare di analizzare determinate situazioni. Quello che intendo dire è che abbiamo giocato una partita in cui siamo stati eccellenti per alcuni aspetti offensivamente, ma siamo stati non attenti e determinati e concentrati su quello che normalmente facciamo in difesa. Ed è una cosa che mi dà prurito, mi dà fastidio, perché abbiamo concesso 14 punti in più rispetto a quelli che concediamo normalmente, abbiamo concesso una percentuale al tiro da 3 punti maggiore rispetto a quella che concediamo normalmente alle squadre avversarie, un numero di rimbalzi superiore e questo spesso arriva da una non attenzione su quelli che possono essere i dettagli che poi oggettivamente sono determinanti nell'arco delle partite. È una cosa che non ci possiamo permettere, che dobbiamo essere invece, dobbiamo tenere sempre presente e che poi a volte si formano, determinate partite possono essere dei campanelli d'allarme. Oggi ho voluto parlare con la squadra appunto per questa cosa, perché potrebbe sembrare tutto semplice avendo vinto fuori casa di 25 punti, stando 10 vittorie e 0 sconfitte e questa è una cosa che invece non va bene, non va bene che abbiamo permesso alla squadra avversaria tante situazioni che normalmente non concediamo e quindi dobbiamo essere attenti e fare esperienza su queste cose, quindi ci dobbiamo tenere presente quello che abbiamo sbagliato e cercando di non ricommettere dei stessi errori. È un aspetto soprattutto quello difensivo sul quale stiamo combattendo dal 20 di agosto e molte volte abbiamo sabato fatto delle cose che non ci hanno caratterizzato fino a questo momento e quindi ho voluto far partecipare la squadra a questa cosa. Ringrazio i due assistenti che hanno fatto un video molto esaustivo e molto dettagliato e preciso su questi aspetti. Abbiamo condiviso con la squadra, come facciamo sempre, le cose positive e le cose negative. Dobbiamo stabilizzare e crescere sulle cose positive e dobbiamo limare il più presto possibile determinate cose che abbiamo sbagliato e ce ne sono state. Mi è bruciata la seconda domanda perché è proprio quello che ti volevo chiedere, sia con Porto Sant'Elvio che con Ortona c'è stato un po' di calo, non tutta la partita chiaramente, in alcune situazioni un po' di calo. Chiaramente è trovare il pelo nel luogo, Giorgio, assolutamente non è una critica, però abbiamo notato questo. Forse siamo sbagliati, non lo so. No, assolutamente tutto quello che viene percepito è sempre motivo di grossa riflessione. Noi sappiamo benissimo quello che stiamo facendo. Con Porto Sant'Elvio abbiamo avuto una qualità difensiva, secondo me spalmata nell'arco dei 40 minuti, molto elevata, subendo 65 punti se non ricordo male. Però abbiamo avuto delle situazioni offensive in cui anche prendendo dei tiri aperti non li abbiamo segnati con le percentuali normali. Però è una partita caratterizzata anche da febbre, da una settimana particolare. Però è fuori di dubbio che non abbiamo offerto una partita incredibilmente elevata a livello di solidità. Però ci sono da fare due riflessioni importanti. Le riflessioni importanti sono che spesso, e questa cosa non va sottovalutata, di fronte ci sono gli avversari che preparano le loro partite e hanno voglia di vincere allo stesso modo di come ci abbiamo voglia noi. Perché alla palla a due io non ho mai incontrato un allenatore o un giocatore della squadra avversaria che non volesse vincere. E quindi come ci prepariamo noi durante la settimana si preparano anche gli altri. Come abbiamo noi un valore di squadra ce l'hanno anche gli altri. Quindi sicuramente io non guardo gli altri ma guardo noi. E posso dire che dobbiamo migliorare su una tenuta mentale, dobbiamo migliorare sull'applicazione dei dettagli che dobbiamo fare, dobbiamo essere bravi a giocare sulle regole e sui concetti che le squadre avversarie provano a mettere in campo. Dobbiamo essere bravi a capire quello che siamo in determinati momenti perché forse ci sono delle variabili, dei fattori che possono influenzare la prestazione. Quindi dobbiamo essere bravi ad avere un senso di responsabilità elevato che permetta di avere una solidità di squadra maggiore. Ciò significa che se un giocatore può dare in un certo momento qualcosina in meno rispetto a una partita precedente, deve elevarsi il rendimento di qualcun altro per mantenere la solidità e il rendimento di squadre elevato. Ed è fuori di dubbio che in questo momento le squadre avversarie come noi conosciamo loro e prepariamo determinate cose, anche le squadre avversarie preparano qualcosa contro di noi. Quindi sicuramente non sono state due partite incredibilmente fluide come abbiamo offerto in altre prestazioni però da qui ad arrivare a leggere qualcosina di particolare o di strano non mi sembra ancora il momento. Sicuramente ci sono dei campanelli d'allarme che possono essere sulla solidità mentale ed è una cosa che pretendo quotidianamente dal livello degli allenamenti. Ma noi sappiamo dove dobbiamo lavorare, quello che dobbiamo fare e come ci dobbiamo approcciare alle partite. Abbiamo grossissimi margini di miglioramento come squadra e stiamo cercando di migliorarci quotidianamente. Poi ci sono dei periodi durante le stagioni in cui ci sono delle cose che devono essere consolidate. Fin quando non sono consolidate quelle cose lo step successivo non siamo ancora in grado di farlo perché come siamo noi come squadra. Adesso stiamo provando a consolidare delle cose, stiamo lavorando su alcuni aspetti e non sono solamente tecnici, tattici, strategici o fisici ma ci sono anche degli aspetti mentali perché poi la testa è quella che muove i muscoli, quello che fa star tranquillo, quello che fa pesare di meno una palla, un possesso, che fa aggredire aggredire gli avversari in senso sportivo. Quindi dobbiamo essere bravi tutti quanti e parlo di società, staff tecnico, giocatori, pubblico. Dobbiamo capire tutti quanti come dobbiamo stringerci e consolidarci. Io oggi dopo dieci giornate non faccio una distinzione tra otto vittorie, otto partite, le ultime due come prima mi hai chiesto tu, ma faccio un percorso e posso dire che in questo momento la famiglia cestistica e famiglia cestistica per me queste entità che sono il pubblico, la società, la squadra, si stanno cominciando a conoscere sempre di più, a piacersi sempre di più e a stringersi sempre di più. Quindi le percezioni, le sensazioni sono positive perché ho la possibilità di stare a contatto quotidianamente con persone di profilo elevato. Quindi le persone di profilo elevato sanno dove sbagliano e sanno che devono cercare di ricommettere il meno possibile gli errori che hanno commesso e quindi che ci vale da esperienza. Quindi ho percezioni quotidiane da questi ragazzi e so dove ci troviamo perfettamente. È il perone luogo Giorgio, per l'amore di Dio, non ci possiamo lamentare assolutamente. Il perone luogo l'ha sempre trovato perché io ho detto alla squadra oggi, ho fatto questa metafora che ho fatto il 20 di agosto quando sono entrato e l'ho rifatto oggi. Preferisco andare dal dentista appena ho un piccolo dolore perché spendo di meno e sento meno dolore. Quindi sappiamo, torno a ripetere, sappiamo dove ci troviamo, sappiamo quello che stiamo facendo in questo momento, tutti, e questo è importante. E ci tengo che lo sappiano, che lo sappiano tutta la famiglia San Severo, con tutte quelle entità, perché vuol dire che tutti ci aiutiamo se abbiamo una difficoltà o siamo tutti contenti se si gioisce. Giorgio, poi un'ultima domanda la faccio a una persona che sta a cuore a me, ma peggio che sta a cuore a parecchie persone, parecchi tifosi. Hai dedicato queste dieci vittorie al Presidente. È una persona speciale. Avrà mille difetti, ma non gli manca il cuore, la passione, per la pallacarista. È il capofamiglia. Se io apprezzo la famiglia, quello che è a capo di questa famiglia, non può che essere la persona che si merita a quello che stiamo facendo in questo momento. È ovvio, è una persona che ha dei valori incredibili e questi valori ce li trasmette. Ce li trasmette a livello di pacatezza, a livello di precisione, nelle richieste che ci fa, nell'educazione con cui ci porta a fare determinate cose, ci porta a ragionare, nelle ambizioni che ha e quindi è giusto che sia così. Torno a ripetere, la cosa più bella dal 20 di agosto al 28 di novembre è che si è creata una famiglia San Severo, che è già preesistente, questo è fuori di dubbio, che però adesso si è, non lo so, io parlo della mia esperienza fino a questo momento qui e non posso che essere contento perché non vede proprio l'unione di tutte quelle componenti che servono per fare le cose nel modo corretto, che non so se vincere, non vincere, perdere, però fare le cose nel modo corretto, nella miglior maniera possibile. Parlavo con i giocatori e gli dicevo che è volato, dal 20 di agosto al 28 di novembre è volato, sicuramente i risultati ci aiutano, però è volato anche perché stiamo bene insieme, perché lavoriamo bene insieme, perché quando abbiamo infortuni ci stringiamo, quando abbiamo criticità ci stringiamo, quando abbiamo difficoltà stiamo insieme, quando dobbiamo gioire gioiamo insieme, siamo un corpo unico, ecco la famiglia, quello che intendo dire, con a capo ovviamente il nostro presidente e tutta la società che ci fa stare tranquilli, ci fa lavorare, ci fa esprimere quello che noi siamo e quando ogni persona riesce a essere se stessa, senza essere artificiale, vuol dire che sta bene e qui a partire da me, con tutto lo staff, con tutti i giocatori, con tutta la società, con tutto il pubblico, siamo tutti quanti noi stessi, quindi questo vuol dire che siamo bene, che siamo noi stessi, vuol dire che siamo in un posto che in questo momento ci sta gratificando, ma dando veramente tutto l'affetto che c'è e questa è una cosa che ci inorgoglisce, poi proveremo sempre di più a crescere, a migliorarci perché abbiamo dei grossissimi margini di miglioramento, la strada è lunga però e dobbiamo essere consapevoli di farla piano piano perché non si brucia niente, oggi nessuno ci ha dato medaglie, nessuno ci ha dato coppe, nessuno ci ha dato niente, quindi dobbiamo avere ben chiaro dove vogliamo arrivare e che non possiamo arrivarci oggi. La società oggi, parlo di società civile, oggi è abituata a non conquistarsi le cose perché basta prendere un telefonino, si scarica un'app e dopo 3 secondi si raggiunge l'obiettivo, questo è un esporto dove gli obiettivi si raggiungono gradualmente e ne siamo consapevoli e nel percorso che dobbiamo fare ci sono momenti grandissimi, momenti di più difficoltà, di meno difficoltà, però anche nelle ultime due partite in cui abbiamo avuto delle difficoltà, siamo stati uomini, siamo stati squadra, siamo stati famiglia, siamo stati famiglia, quindi questo è un momento di crescita notevole che mi voglio tenere e sono contento di questo, poi domenica avremo una partita difficilissima e speriamo di consolidare determinate cose e di aver fatto esperienza di altre. Va bene, ringraziamo Giorgio dopo il duro lavoro del pomeriggio. No, grazie a voi, il duro lavoro è per il giocatore, noi facciamo di meno. No, no, io vi ringrazio e vi aspetto domenica sempre più numerosi. Grazie Giorgio. Grazie a voi.